Proprio in piena adolescenza, appena 16 anni, quando inizia ad incuriosirsi e poi approfondisce gli studi da un punto di vista tecnico-artistico e non solo, anche culturale, perché fa davvero tanto, partecipa a competizioni internazionali, eventi e galà, è stata impegnata in teatro nei ultimi due anni, richiesta come special guest e in veste di direttore artistico nella realizzazione di show autoscritturati, consegue numerosi diplomi e poi approfondisce anche da un punto di vista culturale il suo percorso e diventa mediatore interculturale per l'integrazione interculturale e linguistica, un riconoscimento che ottiene dalla regione Lazio. È soprattutto con lei che ci tiene di più, a che questo gran galà funzioni e vi piaccia, vi trasmetta molto del mondo medio orientale e della cultura araba e allora è conosciuta dal pubblico così e così la presentiamo la piccola Princese Sheratata. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.